che era una mostra, cioè mezzo sigla buscata, un tiro da gallina, non si legava nessuna, adesso la testa è presente, a parte le battute, c'è un'inflazione. No, ma io, grazie a tutto, vi voglio ringraziare tutta la stampa, che non è mai così, che ha un po' di me, che qua le varie conferenze che facciamo in Otega, questa di oggi, l'anticipavo il voto su, ma serve per raccomandare una serie di iniziative che verranno posti da Quai in Otega, in altre location, come la città del Busto, dove la parata protagonista è quello che è un prodotto d'eccellenza del panorama agroalimentare della nostra regione, l'Orio, e che quindi sarà poi il live motive di tutte queste iniziative che porteremo avanti. Ringrazio nuovamente quelli che sono i partner, che hanno, se ne adassi, hanno messo un impegno, passione per realizzare questi eventi, quindi Paolo Duccia, il direttore di Aperolosco, Massimo Gaggiano, è il Presidente di Napoli, è il Presidente regionale, e il Presidente dell'Aipo, è il Presidente dell'Aipo, è il Presidente dell'Associazione di Interimenti Importante, Comune di Del Lassio e Callarocchi, che sta a cittare la prima raccolta insomma, per la colazione incostantemente ormai da tutte le iniziative. Parlare di Orio è una cosa importante, è importante per due motivi, un motivo, diciamo, culturale, un motivo anche economico, l'idea dell'Orio rappresenta un comparto che nell'agricoltura regionale è sicuramente tra i più generati. Il Parlamento di Orio è anche una questione culturale, perché l'Orio è, diciamo, fortemente legato alla nozione del territorio della nostra regione. Quando parliamo di Ulivo, parliamo di qualcosa che è una componente essenziale, non solo del paesaggio, ma anche di quella che in un certo senso è la cultura, la tradizione delle nostre popolazioni. dicevamo in un comunicato stampa che abbiamo fatto come Arsial, che proprio grazie all'agricoltura, che spesse volte è stata un'attività agricola che poteva essere involta in tanti territori della nostra regione, si è impedito per quello con lo scoppamento, l'abbandono dei territori, che sarebbero stati soggetti a un degrado sociale, ambientale, di verissime proporzioni. Noi oggi crediamo che a tutto a pieno titolo, orio, possa essere definito, un'attività produttiva tradizionale nella nostra regione, che dimostra anche, forse voi lo sanno, la presenza di quella che è la pianta d'olivo più antica in Europa, a fara sabina, in un comune appunto del Lazio, abbiamo quella che è una pianta d'olivo addirittura di Salente a quinto secolo. Quindi la produzione è una produzione che connota da sempre il nostro comparto agricolo, che vedevamo un po' con il Presidente Carga, con i dati, e ci potrò anche vedere come la produzione dell'olio è diffusa equamente in tutte le province dell'Asio, in un'ultima da specifici proprio su base provinciale. La produzione che è importante dal punto di vista, diciamo, qualitativo, ma anche quantitativo. Non ci risentiamo, abbiamo circa 300 strutture, diciamo, parco di monitorio nella nostra regione, che dimostrano come questa filiera si attiva, che è fortemente efficiente sotto il profilo produttivo. È chiaro che è una filiera che deve essere aiutata, è chiaro che è una filiera che deve essere aiutata anche con uno spazio promozionale, che non può evidente il perché, ma è anche evidente che è una filiera che è connotata da sempre con una forte qualità, non per nulla in questa nostra regione partiamo quattro DOP, due nella provincia di Riterbo, la Tuscia e il Canino, una nella provincia, diciamo, della Sabina, tanto con la Romana, tanto con la Catina, e un'altra nella provincia di Latina con le colline potiche. Quest'anno, come dicevo prima con dei giornalisti, abbiamo una produzione particolare, particolare perché ormai siamo abituati a questi cambiamenti climatici che collocano un eccessivo caldo, un eccessivo freddo, i spazi temporali del tutto in uguale. E quest'anno il caldo e la siccità hanno prodotto un effetto anche, diciamo, che si pensava all'inizio negativo sul settore dell'olico-cultura, perché questa siccità e questo eccessivo caldo hanno ridotto, dati di snea, che è una produzione di circa 40% alla produzione, ma nel contempo hanno evitato il verificarsi di alcuni eventi patologici, verso la mosca, spesse volte in cinema, proprio sulla qualità dell'odio. E quindi abbiamo meno produzione, ma sicuramente una qualità che è più evidente, che è sicuramente maggiore rispetto agli anni passati. E allora questo ci deve ancora di più agolire, ci deve ancora di più spingere a lavorare sul fronte della promozione, una promozione che però deve essere una promozione sicuramente ragionata e strategica. Io credo che nel corso di questi anni abbiamo constatato che su alcuni settori agricoli, diciamo così, abbiamo fatto dei grandi passi avanti, credo che oggi forse nell'immaginario collettivo molti sa, non dico tutti, ma la differenza che c'è tra una bottiglia di vino con marchio di illuminazione di origine controllata e magari un litro di vino intera. Pochi forse sanno quali sono le differenze tra la bottiglia di olio per strategia d'oliva nel nostro territorio e invece quelle bottiglie di olio che mi, e qua Massimo ci sarebbe da fare un discorso molto ampio sulle famose 5 centrali d'acquisto, perché noi parliamo tanto di chilometri in zero, vorremmo tanto di far crescere consapevolezza del consumatore. Noi abbiamo 5 centrali d'acquisto, che sono le famose 5 sorelle che controlla tutta la grande distribuzione nazionale, che un anno ha un tipo di consapevolezza territoriale, che sono quelle che ci propongono ed esaurite le nostre cassette delle cose, di volantini, una bottiglia di olio a 2 euro, non ha un po' di povera e mezzo. Questo è sempre che qualcuno dice, la domanda soltanto è spontanea, se togliamo il costo della bottiglia, del vetro, se togliamo il costo da etichetta, della carica, se consigliamo il guadagno del produttore, il guadagno del trasportatore, il guadagno del grossista, il guadagno del distributore, qual è il mistero che questa bottiglia contiene? O meglio, qual è la qualità che questa bottiglia contiene? Il prezzo dell'olio dell'azio, il prezzo giusto, cioè un prezzo che, a livello nazionale, si atteste in una fascia medio alta, perché gli è riconosciuto la grande qualità, ed è un prezzo, io dico, che forse è il luglio che garantisce i limiti, l'efficienza, la sopravvivenza economica di una minima produttiva. Quindi noi dobbiamo spingere su questo prodotto, perché è un prodotto che, ripeto, ha grandi qualità, e che però deve essere promosso con una linea fondamentale, che in cui la siti di qual è la qualità, ma anche di spingere la sua tracciabilità. Noi, anzi, abbiamo...